...dominante, con una grandiosa manifestazione di affetto e di entusiasmo, ha accolto il maresciallo d'Italia Pietro Badoglio, il quale, dopo aver visitato la Casa del Pascio, dove sostò il religioso raccoglimento nella cappella votiva, si è recato al monumento dei caduti in guerra, al deporre una corona di alloro. Arrivo ad Asti del Duca di Addis Abeba, al quale venne consegnata dal Podestà una ricca spada di onore. Ecco la Villa della Vittoria, offerta dagli astigiani al maresciallo Badoglio per sottoscrizione popolare. Grazie a tutti.